Grazie a tutti. Quanti anni sei qui a Salerno? 17 anni, minuti rimisi, era il computer. Ma qual è il tuo nome? Il nome, l'arbi, con il nome Suhail. Tutte le famiglie in Suhail, il nome. Ma come mai questo invece? Plastic dove nasce? Plastic, prima del 1997, a Salerno, non conosco tutto il mio amico, mi piace tutto il mio plastico. Ma come si sa, il mio amico, mi piace tutto il mio plastico. Non c'è il bar, il caffè di caffè, però in bicchie di plastico. Plastico. Obertino invece ne ha la tenista? Bertino, forse, signor Daluca, io farò il nome. Buono, originale. Non è più facile, obertino? Bertino buono. Perché, Bertino, sembra iberta nel negozio, notte o giornata, capisci? Sembra iberta nel negozio, io, l'Italia è tutta chiusa, le nuove, io, no. Mai iberta. Signor Daluca, non ti leggo, parli a me, iberta, non ti leggo qua, capisci? Ecco, Plastico, tu dove vivi adesso? Eh? In the Danish. La stazione, dice, è spostata. La stazione, è in Romina. Via Carmina dormina, stazione dormina, il Romuli, il Romuli dormina, il Romuli, tutti sono in casa mia. Auguri. Grazie. Grazie a te.